benvenuti a questo secondo appuntamento con chiedilo a every eye quello che possiamo definire in fondo il nostro q&a indifferita ovvero uno spazio in cui rispondiamo alle vostre domande con ritmi un po più rilassati rispetto a quelli che solitamente utilizziamo nelle sessioni di domanda e risposta in diretta sessioni che vi ricordiamo teniamo tutte le settimane per ben due giorni ovvero il martedì e il venerdì a partire dalle 4 del pomeriggio quindi se vi va di seguirci in questi q&a potete farlo qui in diretta su facebook e ovviamente sul canale twitch di every eye.it a cui vi suggeriamo di iscrivervi se ci seguite sapete però che da un po di tempo ci siamo ritagliati anche questo spazio perché ovviamente non riusciamo a rispondere a tutte le domande e poi soprattutto alcune domande hanno bisogno di tempistiche un po diversi insomma hanno bisogno di un po di approfondimento noi non vogliamo tirarci indietro e quindi ci siamo presi questo spazio un po più tranquillo io vi devo anche ringraziare per la partecipazione perché nella prima puntata sebbene fosse un format sostanzialmente nuovo insomma sono arrivate tante domande e tante domande interessanti io spero che abbiate gradito e che abbiate gradito anche le risposte ovviamente lo spazio dei commenti è sempre vostro per darci dei feedback io ero un po titubante insomma all'inizio proprio perché abbiamo due q&a settimanali e pensavo che magari potessero bastare per saziare la vostra curiosità invece la vostra curiosità sembra davvero inesauribile quindi non indugiate scrivete nello spazio dei commenti tutte le vostre domande qui diamo appunto priorità a quelle che richiedono un po più di approfondimento e che magari ci danno anche l'occasione di parlare più in generale del mercato di noi stessi del nostro lavoro fatevi avanti e fra una settimana avrete il vostro video di risposta grazie ancora peraltro condividete perché più siamo meglio è e a presto